E' terminato in questo mese di febbraio un importante intervento di pulizia del parco Miralfiore, pulizia del sottobosco di alcune specie arbore che ha interessato l'area tra l'arco di ingresso al parco e l'area delimitata fino alla villa dove ci troviamo. Ora le chiedo che cosa è stato fatto nello specifico e il motivo di questo intervento. Innanzitutto intendo sottolineare che qui stiamo parlando di un parco urbano, un parco a cui l'amministrazione tiene molto e crede molto. Negli ultimi periodi sono stati fatti interventi importanti dal parco giochi inclusivo donato alla Renco ai nuovi giochi che l'Avis ci ha donato e che inaugureremo fra pochi giorni. Abbiamo lavorato sulla piantumazione di un'area a ridosso di via Solferino dove verranno seminate 19 specie di fiori, quindi avremo una zona di prato fiorito. Gli eventi culturali e musicali all'interno del parco continueranno ad essere implementati perché noi vogliamo un parco sempre più vivo. La regione ci ha dato un contributo di 15 mila euro per realizzare un'area sportiva sempre all'interno del parco e nel frattempo stiamo dando l'incarico alla ditta per sistemare la recinzione attorno al laghetto, un luogo molto frequentato dai bambini e dalle scuole. Abbiamo anche provveduto alla pulizia di questo tratto di parco, quello che va dall'arco alla villa, cosa che avevamo fatto due anni fa e aveva già scatenato un po' di polemiche. Noi non pensiamo di aver fatto la deforestazione dell'Amazzonia, pensiamo di aver ripulito e manutenuto un pezzo di un'area verde che era invivibile, non ci riusciva a passare nessuno, tant'è che quello che è stato tagliato è stato cippato, come si dice, quindi rimane sul terreno. Abbiamo raccolto circa tre camioncini di rifiuti pesanti e non bellissimi, quindi quello che vogliamo noi è che chi passeggia qui abbia una percezione di pulizia, di tranquillità, di sicurezza e soprattutto di verde. Abbiamo anche segnato assieme all'agronomo ovviamente quelle che sono le piante secche, quindi ritenute morte già e procederemo al taglio di queste piante solo nel momento in cui sarà possibile piantarle delle nuove. Quindi questo non è il periodo giusto per intervenire. Nel frattempo abbiamo anche risistemato la vecchia brutta fontana davanti al bar, abbiamo realizzato un murales che richiama la natura e l'artista ha voluto anche riproporre tutti gli elementi animali e vegetali che si trovano nel parco e realizzato un piccolo giardino. Quindi l'attenzione è particolare, è chiaro che qualsiasi cosa si fa diamo la spalla alle polemiche, c'è chi fa polemiche perché è un ambientalista vero, c'è chi fa polemiche perché usa qualsiasi strumento per attaccare l'amministrazione. Io mi sento tranquillo e sereno per il lavoro che abbiamo fatto. Io penso che la città in stragrande maggioranza apprezzi questo intervento.